di youtube, amici di youtube, ritorniamo su youtube, sono sempre il vostro Marco Zolli il lottologo, amici, il lottologo ai numeri, che si continua a giocare con 2.68 a 10 all'otto serale per altre tre colpi che ho detto non va oltre il 28 di aprile amici, entro sabato si presenta il 2.68 a 10 all'otto serale, questo è un bellissimo omaggio per tutti voi italiani amici, allora poi amici se volete contattarmi in privato per gli ampi a ruota contattatemi in tanti e vincete come è stato presso l'amp a ruota con 9.84 amici avete visto sul Napoli unico ambo, allora chiamatemi 349 7809576, poi io sono anche molto bravo con le schiettine del calcio, avevo giocato Mila Benevento, ho messo il 2, è uscito, poi ho giocato Juve Napoli, è uscito il Napoli amici, è uscito il Napoli che ha vinto con 2 euro amici, guardate perché la vittoria del Benevento la dava 12, invece la vittoria del Napoli la dava 3.65 con 2 euro amici, 87 euro, 86 e questa è la fortuna amici, è stata la fortuna e sono molto bravo anche con le schiettine del calcio amici e mi potete contattare anche per le schiettine, anche per le schiettine sia per il lotto e sia per le schiettine del calcio che sono bravo su tutti i due punti di vista amici, contattatevi in tanti e buona fortuna con 2.68 che si presentano fra massimo 3 colpi di gioco, ciao e buona giornata a tutti, ciao